Ben trovati dalla redazione di News24.city. Marò, Corte Suprema dell'India, immediato rientro di Girone, ha accettato l'ordine del Tribunale dell'AIA a soddisfazione della Farnesina. Elezioni USA, incubo, tasse per Donald Trump, il tycoon americano ha eluso le tasse per 50 milioni di dollari. Migranti, un barcone si capovolge a largo della Libia, 5 i morti, soccorso della Marina Italiana, 562 persone portate in salvo. Giappone, Renzi annuncia il G7 italiano, si terrà in Sicilia, Taormino in Pol, siamo pronti, c'è anche l'ipotesi di Lampedusa. Tragedia Egipter, una società italiana ingaggiata per le ricerche assieme a una francese, localizzeranno le scatole nere. Firenze, voragine di 200 metri sul Lungarno, sprofondano le auto, il sindaco possibile errore umano.